Ciao a tutti, il motivo che andiamo a vedere oggi è appunto questo motivo che vi avevo fatto vedere precedentemente nel video per i motivi da uomo. Adesso andiamo a completare appunto quel video con questo motivo per l'appunto. Allora questo motivo è anch'esso semplicissimo, sul davanti si presenta in questo modo e si realizza montando 8 maglie, quindi 8 maglie più 4 e ovviamente le 4 di vivagno che vanno a formare il bordo. In questo caso io ho posizionato sul ferro un numero di maglie che equivalgono praticamente a 3 motivi, quindi 1, 2 e 3, più ovviamente le 4 maglie che vanno a terminare il motivo. Si realizza in 12 ferri. Andiamo adesso a vedere come si procede. Allora, il primo ferro, andiamo a fare il vivagno, vi lascio il link qui sopra, un rovescio e 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Andiamo adesso a ripetere queste maglie. Arrivati alla fine del ferro, chiudo il ferro con 4 rovesci. 1, 2, 3 e 4. E il vivagno. Secondo ferro, vado a fare il vivagno. Un diritto, due rovesci e un diritto. Adesso, adesso vado a ripetere questo motivo. 4 rovesci. 1, 2, 3 e 4. Un diritto, due rovesci e un diritto. Quindi, vado a ripetere esattamente queste maglie. Quindi, da qui a qui, vado di nuovo a ripeterlo fino alla fine. Terzo ferro. Vado a fare il vivagno. 4 rovesci. 1, 2, 3 e 4. 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Vado a ripetere di nuovo queste maglie. Fino, ovviamente, alla fine del ferro. Arrivati alla fine del ferro, chiudo con 4 rovesci. 1, 2, 3 e 4. E ovviamente il vivagno. Quarto ferro. Uguale, praticamente, al secondo. Come il primo è uguale al terzo. Quindi, due rovesci di vivagno. Vado a fare un diritto. Due rovesci. E un diritto. E adesso, vado a fare il motivo che vado a ripetere. Quindi, 4 rovesci. 1, 2, 3 e 4. Un diritto. Due rovesci. 1 e 2. E un diritto. Vado, quindi, a ripetere da qui a qui. Fino alla fine del ferro. Quinto ferro. Vado a fare il vivagno. Quattro rovesci. 1, 2, 3 e 4. E quattro diritti. 1, 2, 3 e 4. Vado a ripetere queste maglie. Arrivata alla fine del ferro, chiudo con quattro rovesci. 1, 2, 3 e 4. E ovviamente il vivagno. Sesto ferro. Come i precedenti, quindi come il 2 e il 4, vado a fare due rovesci. E di nuovo. Un diritto. Due rovesci. E un diritto. Vado a ripetere il motivo. Quattro rovesci. 1, 2, 3, 4. Un diritto. Due rovesci. E un diritto. Quindi, ripeto, praticamente, queste maglie. Fino alla fine del ferro. Settimo ferro. Vado a fare il vivagno. E questa volta cambio. Vado a fare quattro diritti. 1, 2, 3 e 4. E quattro rovesci. 1, 2, 3 e 4. Vado a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con quattro diritti. 1, 2, 3 e 4. E ovviamente il vivagno. Ottavo ferro. Vado a fare il vivagno. Quattro rovesci. 1, 2, 3 e 4. E adesso vado a ripetere il motivo. Un diritto. Due rovesci. 1 e 2. Un diritto. E quattro rovesci. 1, 2, 3 e 4. Quindi vado a ripetere praticamente da qui a qui fino alla fine. Non ho ferro. Vado a fare il vivagno. Quattro diritti. 1, 2, 3 e 4. E quattro rovesci. 1, 2, 3 e 4. Vado a ripetere il motivo. Cioè, scusate, il motivo. Chiudo il ferro con quattro diritti. 1, 2, 3 e 4. E ovviamente il vivagno. Il decimo ferro. Vado a fare il vivagno. 1 e 2. Quattro rovesci. 1, 2, 3, 4. Vado a ripetere il motivo. Quindi un diritto. Due rovesci. Un diritto. E quattro rovesci. 1, 2, 3 e 4. Vado a ripetere da qui a qui fino alla fine del ferro. Undicesimo ferro. Vado a fare il vivagno. Quattro diritti. 1, 2, 3 e 4. E quattro rovesci. 1, 2, 3 e 4. Vado a ripetere il motivo. Arrivati alla fine del ferro. Chiudo il ferro con quattro diritti. Uno, due, tre e quattro. E ovviamente il vivagno. Dodicesimo ferro. Il vivagno. Quattro rovesci. Uno, due, tre e quattro. Vado adesso a ripetere il motivo. E sono un diritto. Due rovesci. Un diritto. E quattro rovesci. Uno, due, tre e quattro. Vado a ripetere adesso il motivo da qui a qui fino alla fine del ferro. Allora, come potete vedere il motivo praticamente è terminato. Vi lascio sotto il video il motivo per iscritto. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.